L'acciaio che fa? Le avventure di Gigi Robo d'acciaio Oh, Gigi, ti è vero Stupata, scende la prossima di voi biglietti, capito? Non l'ho mai fatto il biglietto, mai! Ah, si? E allora ti fai a pera? Ma che c'è? Arrivederci! Io domami lo piglio un'altra volta, tanto che questo è mica dei servizi Ma che c'è? La porta aperta Sarà fuggito il gatto Mamma mia! Ehi! Azzo! Oh, sono arrivati i mariuoli Speriamo che non si hanno pegliato il ciccio bello Mannaggia! Ehi! Ehi! C'è qualcuno? Se ne sono scappati Due statuine Scusate Buon uomini Avete visto per cazzo due mariuoli? Ah, uno solo Oh, si! Oh, si! Corre! Lì per il pennello che t'ha da ricero Ma non si sa sempre la mucca O si dico che ti hanno rubato la sorda Che ha salito lo scatto Non mi avrei mai chiamato il denaro Allora, non mi avrei buono prezzo 12.000 euro E quanti sono? Maronna! 24 milioni! Ma tu che dici? 24, babà! Eppure con tutta la roma coppa Comunque ascoltami bene Ti ha impiegato la motocicletta Che tra l'altro non si manca portata Eppure la cittina che tiene in canna Fammi capire ma ci ha migliorato un braccialetto Ma perché tu a sorda come stai? Mamma, ma quale sorda? E' un maledio! In tuo portafoglio ormai mi hanno montato i campioni Ma che non sapere una lina, mamma? E che schife gente? Ma a sorda mi ha capito i 24 milioni Ma a sorda mi ha capito a sorda Ma alcainato mi ha lanciato i miei componenti! Uuuuuh! Coscia! Che l'ha da coscia? E' quanto? E' quanto? E' quanto? E' quanto? E' quanto? E' quanto? Andiamo a fare una bolla e mangiarli che ora non stiamo così Ehi, mangia questi fitti, fitti e questo tricotraca Ma che l'ultima londrina stanno sparando in questo fuoco Uuuuuh! E' quanto? Lui siamo pure un figlio E' infatti si è fatto tanto? E poi a butti fa il capo due fratelli Mamma mia che ci ha fatto infatti Si, ma alla prossima puntata Non avevo fatto Aspetta Grazie a tutti